Buongiorno a tutti, gentili degli spettatori, ben trovati a Refresh, la nostra segna stampa su Toscana TV e Firenze TV. È ovviamente giovedì 5 gennaio 2022, buongiorno e ben trovati. Siamo pronti per leggere le prime pagine di oggi, i titoli e le principali notizie che ripercorreremo grazie ai servizi di Toscana Tg e commenteremo insieme ai nostri ospiti. Andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, all'apertura. Tamponi a chi vola dalla Cina, Covid, la raccomandazione dell'Unione Europea ai Paesi. Serve un test negativo per partire da Pechino e all'arrivo. Dunque vedete il titolo è virgolettato perché la dichiarazione arriva da Bruxelles. E la variante Kraken spaventa gli Stati Uniti. Parla un esperto tedesco che dice non è più una pandemia. E poi le regole sull'asilo, niente patto sui migranti, Stoccolma gela Roma. Il patto europeo sull'immigrazione non si farà prima del 2024, gelata della Svezia che arriva all'Italia. E poi il governo e lo spoil system, ministeri e agenzie statali, ondata di cambi ai vertici. I dirigenti di ministeri e agenzie statali verso la sostituzione perché devono essere cambiati 90 giorni dopo la fiducia al governo. La data scade il prossimo 24 di gennaio. Questo spiega il Corriere sulla prima pagina di oggi. Poi a centro pagina ovviamente il campionato. L'Inter batte Napoli e riapre la Serie A. Il Milan ha 5 punti dalla capolista. Vincono anche Juventus e Roma. E poi Parolin ha fallito chi voleva il caos per i due papi. Oggi l'addio a Benedetto XVI. C'è l'intervista al segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin che spiega la contingenza storica che ha visto convivere nello stesso tempo due papi e ha configurato per la Chiesa una situazione inedita che poteva essere delicata. Qualcuno magari ha pensato di approfittarne e magari ci ha provato per spargere confusione ma non è riuscito nel suo intento. E poi padre Georg firma un articolo oggi sul Corriere della Sera con lui sull'elicottero lasciando il Vaticano l'ultimo giorno del pontificato. Ricorda padre Georg l'ultimo giorno del pontificato l'ho vissuto quasi in apnea al mattino nella sala Clementina ci fu l'incontro di Benedetto con i cardinali presenti a Roma. Era stato un suo vivo desiderio poter dare loro un saluto di congedo collettivo il racconto di padre Georg oggi sul Corriere della Sera. Andiamo all'interno invece, scusate, andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica il titolo di apertura è Meloni piglia tutto, lo spoil system ovvero le nomine che riguardano l'economia, le finanze, la giustizia, la sanità la destra alla carica per occupare le potrone chiave dei ministeri e cambiare lo Stato. Dopo il commissario del terremoto Legnini, ieri rimosto Magrini al vertice dell'AIFA l'agenzia del farmaco scontro per mandare via Rivera dal MEF. La Svezia intanto stop al piano europeo per i migranti, Fitto, il ministro Fitto spiega non è contro l'Italia. Poi oggi i funerali, vedete nel riquadro, il no di Francesco alla messa in latino spezzò il cuore di Benedetto XVI, Jacopo Scaramuzzi racconta questa testimonianza che arriva da padre Gheorghe. Poi a centro pagina, polemica per le frasi di Crosetto, Banca Centrale Europea, Monti attacchi dannosi, le camere invitino la Gard, questo spiega l'ex presidente del Consiglio Mario Monti. Gli attacchi sono dannosi, consiglio il silenzio. Questa ovviamente è la prima pagina di Repubblica, ci si occupa in una vignetta ovviamente di LK, vedete della situazione in Iran, Teran libera l'attrice Alio Duisti e Charlie Hebdo il ride Caimeni, questo spiega il quotidiano La Repubblica sulla prima pagina di oggi. Andiamo anche sulla prima pagina invece del quotidiano La Nazione con le notizie che troviamo ovviamente in primo piano, il titolo di apertura, prezzi e bollette, ecco come salvarsi, la guida come cambiare contratto, le app per individuare il carburante al minor costo, gli accorgimenti su cibo e vestiario, governo preoccupato del quadro economico, critiche alla Lagarde, sbaglia ad alzare il costo del denaro, Roma cerca alleati in Europa. E poi a centro pagina, Madame Vax, sfogo della cantante che rischiava l'esclusione da Sanremo, i dubbi dei miei sulla scienza, ma io ora ho fatto e ma io ora farò tutti i vaccini. Madame al secolo Francesca Calearo, vent'anni, polemica ovviamente sulla sua partecipazione a Sanremo. E poi andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano La Nazione con le notizie che arrivano da Firenze e dalla Toscana, un tempo e poi il calo, solo pari col Monza, il gran gol di Cabral. Così viene sintetizzata la partita della Fiorentina di ieri col Monza in campionato, la prima del 2023, finita 1-1 secondo La Nazione. E poi la montagna senza neve, crisi a betone, dateci lo stato di calamità. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano Il Tirreno, l'edizione è quella di Firenze, Prato e Empoli. Il titolo di apertura, vedete anche qua nella fotonotizia a centro pagina, il Monza frena la Fiorentina è solo pari. Il titolo torna il campionato a Franchi di Firenze dopo la pausa mondiale, ai Viola non basta il gol di Cabral. E poi progetti digitali crescono, Firenze, percorsi segreti, soste intelligenti e pagamenti online. Il 2023 si apre con nuove sfide per la città più smart d'Italia. Nel taglio alto invece a Prato, fallimenti in calo, ecco chi non ce l'ha fatta. Sono 49 le società a cui è stata staccata la spina nel 2022 rispetto alle 66 del 2001. Dunque vedete ovviamente il tema che riguarda i fallimenti in primo piano su Prato. E poi in primo piano invece l'emergenza clima, primavera, gennaio e monti senza neve. Si va verso il disastro, dicono ovviamente gli esperti del settore, gli addetti soprattutto dell'agricoltura. Andiamo anche sulle altre prime pagine di oggi. Prendiamo un tema economico sul Sole 24 ore che è molto interessante. Calo del gas e inflazione giù in Francia, spingono le bolse a rally di inizio anno. Dopo la notizia dell'inflazione che scende in Francia, ovviamente la notizia di ieri ha preceduto quella dell'altro ieri, quando l'inflazione è scesa giù anche in Germania, questo spinge ovviamente al rialzo delle borse europee e non solo. Può essere sicuramente una buona notizia. Andiamo anche sul titolo del quotidiano libero, resa dei conti tra papi nel giorno del funerale. L'ex segretario di Ratzinger, Bergoglio, gli ha spezzato il cuore. Si apre lo scontro tra conservatori e riformisti in Vaticano. La vicenda, come abbiamo letto precedentemente, riguarda la celebrazione della messa in latino. Il giornale, caos immigrati, trappola svedese, muro di Stoccolma, nessun patto sulla ripartizione dei migranti durante il semestre di presidenza europeo, ma il governo italiano evita lo scontro. Sono già quasi 2.000 gli sbarchi dall'inizio dell'anno. Il fatto quotidiano, il titolo di apertura, ora chi protesta rischia di più di chi ruba milioni. Dopo 30 anni di taglia e cuci, per i ladri di Stato, Salvini e Nordio completano lo svuotamento del codice penale. Picchetti e blocchi stradali puniti più duramente di corruzioni ed evasioni. Andiamo anche al titolo della verità. Il tribunale, restrizioni incostituzionali. Qualcuno comincia a mettere in discussione la gestione del Covid. Assolto a Milano un cittadino accusato di aver violato la quarantena. Non era un pericolo e comunque la libertà personale non può essere limitata da un provvedimento generale. Traduzione? A essere illegali non erano gli atti delle persone, ma i DPCM del governo. E poi l'amico di Totti a mente, Francesco Vammatto, per il gioco d'azzardo. Giacomo Amadori racconta ovviamente perché Francesco Totti è stato attenzionato dall'antiriciclaggio per alcuni versamenti che fanno riferimento ovviamente a conti collegati a società che si occupano di gioco d'azzardo. Andiamo avanti con i titoli di oggi, ma lo facciamo tra poco con la rassegna stampa sportiva. Prima è il momento di ripercorrere tutto quello che è accaduto il 4 gennaio. Grazie all'Almanacco di oggi. Buona giornata con l'Almanacco Barba Nera. Oggi è il 5 gennaio. Si festeggia Santa Emiliana. Il nome viene dall'antico gentilizio latino Emilius, di probabile origine etrusca. Significa emulo, rivale, ma anche cortese. Dice il proverbio liti e contrasti lontani dai pasti. Sono nati oggi Umberto Eco, re Joan Carlos I di Spagna, Cristian de Sica. Il 5 gennaio del 1911 viene inaugurato all'interno di Villa Borghese il Giardino Zoologico di Roma, oggi Bioparco. Progettato con una concezione moderna, privo di gabbie e dotato di un orto botanico, fu riconosciuto da tutti i visitatori come uno dei luoghi più incantevoli di Roma. Il 5 gennaio 1933 iniziano i lavori del Golden Gate Bridge di San Francisco, un'opera che ridefinì i limiti dell'ingegneria. Con i suoi 2,71 km di lunghezza, infatti, fu il più grande ponte a sospensione del mondo. Infine, il 5 gennaio 1972 si avvia lo sviluppo del programma Space Shuttle, il sistema di lancio riutilizzabile ritirato dal servizio soltanto nel 2011 dopo ben 135 lanci. Marco Aurelio ha detto Agisci, parla e pensa come se stessi in quell'istante per lasciare la vita. Arrivederci da Barba Nera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. E dopo l'almanacco del giorno, mi scuso con i telespettatori, ovviamente la giornata è il 5 gennaio, non il 4, come ho detto, annunciando l'almanacco. La rassegna stampa sportiva, il Corriere dello Sport Stadio e la svolta. Punto interrogativo, si domanda, Cabrali illude, ma la viola stecca. Fiorentina rimontata al Franchi dal Monza per 1-1, il brasiliano sblocca la gara dopo 19 minuti. Nella ripresa, Carlos Augusto, Gela, Terracciano, italiano, giusto avere rimpianti, si rivede Castrovilli, sabato il Sassuolo. Quei limiti di tenuta, spiega Alberto Polverosi nell'articolo di commento, una volta che la Fiorentina trova il centro avanti, smarrisce le ali. Gol di Cabral, errore di Cone e nessun contributo di Saponara. Così sfuma la prima vittoria del nuovo anno, non parte la rimonta europea e si intuisce il campionato della Fiorentina, che ha realizzato 20 punti in 16 partite. Andiamo anche alla prima pagina del quotidiano La Gazzetta dello Sport, che invece si occupa appunto di quello che è accaduto soprattutto in Inter-Napoli. Canta l'Inter, è il titolo di apertura con la foto di Dzeko. Scudetto è riaperto, Dzeko testa d'oro, Napoli primo K.O. Inzaghi azzecca le mosse, estende la capolista, rimonta, sfida per tutti. Spalletti, noi sotto toro, ammette il tecnico del Napoli. E il Milan è più vicino, le A e Tonali salgono a meno 5 e saremo lì fino alla fine a Salerno, ripartenza da Diavolo con una vittoria per 2 a 1. Intanto la Juve ottiene la settima vittoria consecutiva, a Cremona vittoria al 91esimo, il corto muso è Di Milic e Allegri gode, spiega la Gazzetta dello Sport. Ci fermiamo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco ancora con un refresh alla nostra rassegna stampa su Toscana TV e Firenze TV. Restate con noi. CNA Formazione Sicurezza è un punto di riferimento per le imprese. Il nostro lavoro inizia con un sopralluogo in azienda, cerchiamo e analizziamo il problema, studiamo insieme le possibili soluzioni e ne valutiamo gli eventuali costi. Io avevo un'azienda, un problema che riguardava la gestione dei rifiuti, mi sono rivolto a CNA Formazione Sicurezza per trovare una soluzione. Io sono rimasto molto soddisfatto e non posso che consigliare ai miei colleghi imprenditori di contattare CNA Formazione Sicurezza, se hanno delle difficoltà particolari sulla gestione ambientale e l'igiene e la sicurezza sul lavoro. Immaginate che questi siano soldi. 15 milioni di euro per l'esattezza. Puoi metterli in saccoccia. Puoi chiuderli in banca. Puoi investirli in bitcoin. Oppure, se sei una cooperativa e ti chiami Unicop Firenze, puoi usarli per costruire un muro contro il rincaro dei prezzi. Per dare una mano a chi fa la spesa, senza gravare sui fornitori. Prezzi bloccati nei supermercati Coop fino all'8 gennaio. Un aiuto concreto. Perché la Coop sei tu. Non è uno slogan, ma è il modo in cui facciamo le cose. Sì, la casa è a posto. Vieni a cena nei prossimi giorni. Ma sì, i pavimenti, le porte blindate, il rivestimento delle scale, gli infissi. Tutto di Tropical Parquet. Realizzano ogni tipo di personalizzazione, fornendo materiali e posa in opera. Sono in Vialivorno, a Firenze. Sul sito trovi tutte le informazioni. Tropical Parquet. Un parquet così bello che non vorrei coprirlo con niente. Una casa più grande. Magari un giardino. Ma se perdo il lavoro? Ho un incidente. Oppure... Hai stipulato un finanziamento e vuoi proteggere te o la tua famiglia? Banco Fiorentino ti offre una gamma di soluzioni a tutela del credito. Anche in caso di perdita del lavoro. Banco Fiorentino. Al tuo fianco. Sempre. Ci sono tanti tipi di tosse. La tosse acuta. La tosse del nonno. E la tosse davvero lady. Vivi in tosse complite risponde in modo rapido a tosse grassa, tosse secca e gola irritata. Vivi in tosse complite 3 in 1. Diverse tossi, un'unica risposta. Ehi, stavo pensando che dovremmo cambiare casa. Magari una camera in più. Sì, ma che ci affidiamo per vendere la nostra? Dovete vendere casa! Ve la vendo io. Però dovreste mettere una fermetta. No, 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 no. Ma no, fidatevi, è una cosa regolare! No, non capisco perché non sei fidante di me. Devi vendere casa. Francesco Cocchi Mesonna. Grazie all'innovativo metodo Revolution ti garantiamo il massimo realizzo economico, velocità di vendita ed una transazione sicura. Vieni a trovarci nelle nostre sedi di Prato e Sesto Fiorentino. Oh, non ti spaventa. Perché si fa le soli? Io sono qui perché voglio sapere, ma te come fai? A me non mi riesci a vendere neanche un garage, di ciò si fidano. Eh, sarà la faccia. La mia? Buongiorno a tutti, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV. Ben trovati nuovamente a Refresh. È giovedì 5 gennaio 2022. Abbiamo già letto i titoli dei quotidiani di oggi con le prime pagine. Adesso è il momento di addentrarci all'interno dei giornali e scoprire le notizie del giorno che ripercorreremo grazie ai servizi di Toscana TV e commenteremo insieme ai nostri ospiti. Partiamo da pagina 2 del Corriere della Sera. I test in partenza dalla Cina. L'Unione Europea trova la mini intesa. Raccomandazioni non obbligo. Pesano la persistenza di alcuni paesi Austria e la cautela tedesca. Ieri è stato provato dall'Unione Europea un piano che include diverse raccomandazioni per i paesi rispetto al rischio di contagi in arrivo dalla Cina. Test negativo entro 48 ore prima del decollo. Mascherine in aereo e tamponi a campione all'arrivo. Pechino ha già protestato mercoledì quando la Commissaria Europea della Salute Stella Kierialdes ha annunciato restrizioni. Sono misure inaccettabili, siamo pronti a prendere contromisure, ha dichiarato un portavoce del Ministero degli Esteri. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha denunciato l'opacità delle cifre ufficiali su contagi e morte diffuse dall'autorità cinesi e ha criticato la scelta di modificare le definizioni di morte da Covid per abbassare il numero dei decessi riconosciuti. L'IPCR è il meccanismo europeo di risposta politica alle crisi e è uno strumento a disposizione della Presidenza del Consiglio Europea per continuare e per coordinare la risposta politica a crisi gravi e complesse. Intanto una curiosità che riguarda il cifre Covid. Dopo due anni chiuso il 15.00 il Ministero lo riattiviamo. Data di nascita 27 gennaio 2020, data di cessazione 31 dicembre 2022, il 15.00 non è più attivo a partire dal 1 gennaio 2023. Il numero di pubblica utilità è temporaneamente sospeso. Si legge sulla pagina internet del Ministero della Salute che poi fa riferimento all'ordinanza per il superamento delle criticità in ambito sanitario derivanti dal rischio della diffusione di patologie collegate ad agenti virali. I numeri ovviamente di queste risposte dei lavoratori e di tutti coloro che ci hanno lavorato il Ministero non esclude ovviamente la possibilità di riattivarlo vista la situazione in Cina. Negli Stati Uniti sale la variante Kraken, è al 40% dei contagi, è una sottovariante ufficialmente battezzata XB15 dove la sottovariante sembra essersi sviluppata e cresce soprattutto negli Stati Uniti. La crescita è più rapida dalla comparsa di Omicron di cui è sottovariante e c'è un rischio delle reinfezioni. Su questo Margherita De Bach intervista Thomas Mertens, virologo tedesco e presidente di Sticola a un commissione su vaccini tedeschi istituito presso il Robert Koch Institute, una delle massime autorità scientifiche di riferimento in Europa e spiega che nessuna variante distrugge l'immunità. La pandemia è finita, questo spiega il virologo tedesco Mertens che parla ovviamente di fase endemica e non pandemica. Si stima che il rischio reale delle nuove varianti non sia particolarmente elevato e che i vaccini restino efficaci. Andiamo avanti sempre all'interno del Corriere. I funerali di Benedetto XVI, l'addio a Benedetto XVI attesi più di 100.000 fedeli. Il giorno dell'ultimo saluto al Papa Emerito, Omelia di Francesco a San Pietro, delegazioni della comunità ebraica e islamica. Vedete alle 8.45 il trasporto della Bara dalla Basilica al Sagrato, la preghiera del Rosario, dalle 9.30 la Messa sul Sagrato, il rito dell'ultimo con tutti i suoi riti e poi il trasporto della Bara attraverso la Basilica alle Grotte Vaticana per la tumulazione. Questi sono ovviamente i vari passaggi della celebrazione di oggi con la grafica che spiega tutto sul Corriere della Sera dove ovviamente il celebrante sarà Papa Francesco, la Bara del Pontefice Merite dove sono collegate le delegazioni ufficiali d'Italia-Germania, i cardinali e i vescovi, i sacerdoti e i ministri della comunione. Poi ci sono 18 delegazioni presenti a titolo personale. Parla il segretario di Stato Pietro Parolin che ricorda Ratzinger, dopo le sue dimissioni andava a trovarlo a Natale e spiega che ha fallito chi pensava di approfittare dei due papi per creare confusioni. L'effetto negli abbracci, negli sguardi e nelle parole che si dicevano è stato per tanti un motivo di commozione e di consolazione. Certo, hanno avuto dei temperamenti e delle sensibilità diverse. La Chiesa è adornata dal suo Signore di molti gioielli. L'omelia è indimenticabile. Le parole di quando mi fece vescovo mi sono scese nel profondo del cuore mi guidano nel mio cammino e nel mio servizio alla Chiesa. Poi parla contro i denigratori. Le caricature costruite da qualcuno per denigrarlo verranno spazzate via come pula nella memoria lunga della Chiesa. Questo spiega Parolin. Andiamo all'interno del Corriere della Sera con una vicenda che riguarda Francesco Totti versamenti milionari ai casinò Totti nel mirino dell'antiriciclaggio. Las Vegas, Londra, Monte Carlo un conto era in comune con Ilari altri soldi ad amici di Anzio. L'ex capitano giallorosso Francesco Totti appassionato di scommesse e di gioco per questo frequenta i casinò ora però l'antiriciclaggio accusa di operazioni sospette a favore di alcuni casinò. Le grandi case ma anche Anzio fra i versamenti sospetti c'è quella ad una pensionata di Anzio suocera di un amico di Totti che avrebbe attività definite opache da Banca Italia con controparti nel settore delle scommesse online e poi poiché uno dei conti da cui sono partiti i bonifici per 3 milioni a Monte Carlo era contestato con Ilari gli avvocati di lei il vizio del gioco per gli avvocati di lei il vizio del gioco di Totti potrebbe rappresentare un danno grave al patrimonio di famiglia questo spiega il quotidiano Il Corriere della Sera andiamo invece a occuparci di una vicenda che riguarda la Toscana in particolare Monte Catini Terme da Schwarzenegger a Cocoschanel le terme dei divi ridotte a Calcinacci vedete il cantiere con la foto i lavori fermi alle terme leopoldine da 12 anni il progetto era firmato da Massimiliano Fuxas Monte Catini il rilancio firmato da Fuxas fermo da 12 anni i debiti e il tentativo di salvataggio Monte Catini Terme è caratterizzata da diversi pianti curativi che hanno quasi tutti più di un secolo oggi solo le terme ready esterne al Parco Storico sono funzionanti per i bagni dei visitatori è bloccato il cantiere per il rilancio delle terme leopoldine pensate questo cantiere come spiega la stella sul Corriere della Sera di oggi spiega che sono passati 14 anni dal 2 gennaio 2009 quando l'Ansa riferì le promesse sul rilancio delle terme di Monte Catini 16 con i due anni che già trascorsi dal solenne annuncio del progetto dell'Archistar Fuxas nel 2007 i soldi arriveranno con l'avvio dei lavori il cantiere delle leopoldine dovrebbe partire ad aprile la piscina di Fuxas dovrebbe essere pronta entro il 2010 l'anno successivo dovrebbe essere pronto il bagno romano così ovviamente questi erano i tempi dei lavori secondo ovviamente le dichiarazioni iniziali e poi vedete le foto due visitatrici alle terme Tettuccio tra gli impianti storici Maria Osè di Savoia e dietro alla destra di lei Re Umberto II in divisa in una visita dei reali e poi il grande compositore Giuseppe Verdi gioca a carte a Monte Catini di cui era un abituale frequentatore e dunque questa la vicenda triste delle terme di Monte Catini terme leopoldine andiamo a pagina 25 del Corriere della Sera gas sotto quota 65 euro così i consumi ridotti di famiglie e imprese ai minimi da 10 anni a dicembre meno 8,8% di consumi di elettricità la vicenda ricordiamo le temperature miti stanno consentendo di risparmiare sui consumi di gas i depositi sono ancora all'83% anche i consumi elettrici battono in ritirata a dicembre 2022 secondo i dati preliminari di Terna meno 8,8% rispetto al 2021 e il prezzo del gas ora scende il combinato disposto tra il clima mite e i risparmi necessari per il calo bollette butta giù il prezzo a livelli preguerra questo spiega il quotidiano il Corriere della Sera andiamo anche nelle pagine interne del quotidiano La Repubblica con le notizie di oggi che vediamo ovviamente velocemente dall'economia alla sanità lo spoil system della destra ovvero le nomine nei ministeri soprattutto per le figure apicali ricordiamo ci sono 90 giorni dalla fiducia per poterle cambiare in 90 giorni scadono il prossimo 24 gennaio il governo Meloni può cambiare queste poltrone due sono già state cambiate lo ricordiamo il responsabile ovviamente lo ricordava Repubblica sulla prima pagina il commissario del terremoto Legnini e il presidente Magrini dell'agenzia del farmaco ma quali sono le poltrone in bilico allora economia e finanze la cassa depositi e prestiti poi l'agenzia delle dogane l'agenzia del demanio le comunicazioni la direzione generale per i servizi comunicazioni elettroniche di radio diffusione e postali era stato nominato da Giorgetti Francesco Soro la sanità l'AIFA Nicola Magrini direttore generale dell'agenzia del farmaco è di fatto in uscita poi le poltrone in bilico sono quelle dell'Inps dove c'è Pasquale Tridico dal 2019 e poi Lampal dove Raffaele Tangorra è il commissario dell'agenzia nazionale delle politiche attive a Palazzo Chigi Giovanni Neglini era stato nominato nel 2020 commissario per la ricostruzione post-sisma nel centro Italia e poi ancora per le carceri Carlo Renoldi capo dell'amministrazione penitenziaria per l'istruzione Stefano Versari che era arrivato al ministero di Viale Trastevere con il ministro Bianchi a guidare il dipartimento per il sistema educativo sarà sostituito e dunque queste sono alcune delle nomine che sono in bilico e sulle quali la maggioranza di governo lavorerà in retroscena le mani sul tesoro la Premier punta Rivera e spacca la maggioranza poi chi parla con l'Unione Europea perché Alessandro Rivera che è direttore generale del tesoro dal 2018 ha un ruolo importante soprattutto nell'interlocuzione con la Banca Centrale Europea e quindi ci si domanda la sua sostituzione è sottoposta a una domanda molto chiara e precisa ovvero poi chi tiene rapporti tecnici con la Banca Centrale Europea andiamo invece a pagina 7 l'inflazione oltre il picco borse euforiche spread in riduzione dopo i dati più bassi del previsto in Germania e Francia con il gas 60 euro la BCE potrebbe ammorbidire la stretta ma restano incognite vedete in Italia a novembre a novembre 2022 l'inflazione ha raggiunto l'11,8% in Francia scende al 5,9% a dicembre in Germania all'8,6% in Spagna al 5,8% a dicembre vedremo quale sarà il dato dell'Italia per quanto riguarda dicembre se arretrerà anche il nostro paese come hanno fatto gli altri paesi europei l'Italia è quella che rispetto agli altri paesi europei fa più fatica a scendere dalla montagna dell'inflazione poi a proposito di montagna la strage in montagna Austria poca neve e incidenti sulle piste già 13 sciatori morti numeri mai così alti negli ultimi anni sui decessi indaga la polizia alpina temperature primaverili e discese poco sicure tra le possibili cause nel Tirolo vedete un'immagine aerea che mostra l'assenza di neve rispetto al passato è incredibile vedere queste valli completamente verdi andiamo all'interno del quotidiano della nazione perché a proposito di montagna se ne parla ovviamente in chiave a Pennino in Toscana siamo a pagina 17 a Pennino la stagione più nera alla betone raffica di disdette qui serve lo stato di calamità inizio stagione senza neve piste chiuse alberghe strutture vuote perdite per 10 milioni di euro Toscana e Emilia Romagna unite nelle richieste al governo subito ristori per il settore su questo ci vediamo il servizio di Toscana Tg che è il numero 1 regia grazie l'assenza di neve naturale l'impossibilità di produrla viste le alte temperature rischiano di fare andare in default l'intero sistema economico costituito dai comprensori sciistici dell'Appennino di cui quello di Abetone è uno dei più importanti ad unirsi al grido di allarme lanciato ieri dalle regioni Emilia Romagna Toscana e Abruzzo che chiedono un piano straordinario di interventi e Andrea Formento presidente di Federfuni Italia e assessore al turismo di Abetone Cutigliano è notizia di ieri che i tre presidenti di regione e gli assessori competenti si stanno mettendo in contatto col ministro Santanchè per riuscire a capire quali possono essere i provvedimenti che possano limitare i danni di questo inizio di stagione così drammatico su tutto l'Appennino il ministro Santanchè già nel corso di un incontro che ha avuto nei primi giorni di dicembre si è dimostrato molto sensibile a quelle che sono le situazioni particolari dell'Appennino una montagna che è stretta fra due mari che per cui risente di tutta una serie di situazioni che non colpiscono invece le Alpi pertanto ci attendiamo e crediamo sia possibile possano essere attivate tutta una serie di interventi sia a sostegno delle aziende ma anche a sostegno dei dipendenti così come interventi a sostegno dei maestri di sci e degli artigiani che lavorano in questo settore sono indispensabili per poter mantenere in piedi un'economia e un sistema economico che ha bisogno di tutti gli attori per poter continuare a svolgere l'attività che è principalmente quella di mantenere le popolazioni sulla montagna come Comune di Abetone ci stiamo attivando per cercare di limitare l'impatto fiscale sulle aziende e cercare di capire quali possono essere anche gli interventi da effettuare a sostegno delle famiglie ma chiediamo che nello stesso tempo ci sia un intervento forte e deciso da parte delle altre istituzioni utilizzando anche quelle risorse che sono rimaste come residui dei ristori incredibile vedere queste immagini a gennaio alla Abetone sulla montagna Pistoiese sull'Appennino andiamo avanti con i titoli del quotidiano nazionale ci si occupa della strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno i ritardi della rete stradale la sfida della Toscana a superare l'immobilismo il tormentone della 429 partono i cantieri dell'ultimo lotto il lotto numero 3 della strada regionale che collegherà Empoli a Poggi Bonzi si tratta di un tratto di 4 km che da Cettà Dovest arriverà fino alla strada provinciale Volterrana Castelfiorentino l'apertura è attesa nel 2025 e poi svolta pedaggio per i tir sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno incasso da 15 milioni di euro all'anno la regione tira dritto già quest'anno nascerà la società per azioni che gestirà la Firenze Pisa Livorno pagheranno solo i mezzi pesanti ma niente casello saranno monitorati dal cielo grazie a un satellite e quindi questa è la scelta particolare quindi nessun casello ma semplicemente un monitoraggio dall'alto col satellite utilizzando dunque una tecnologia specifica risorse dalle multe altre risorse circa 7 milioni arriveranno dal 50% degli introiti degli autovelox andiamo ancora con le infrastrutture perché ci si occupa della Tirrenica a pagina 19 Tirrenica quattro corsie di desideri ma adesso è davvero una priorità maggioranza opposizione sulla stessa linea infrastruttura fondamentale non possiamo più farne a meno resta però da chiudere la partita Sat Anas per la concessione poi il via ai cantieri un miliardo e mezzo di euro dunque sono stati stanziati dal precedente governo per risolvere il passaggio delle concessioni da Sat Anas 200 milioni di euro il progetto di adeguamento da Cecina a Tarquinia con quattro corsie e limite a 110 senza pedaggio sono 188 chilometri 90 chilometri da Grosseto a Tarquinia con una sola corsia per il senso di marcia in croce a raso soprattutto nel tratto di Capalbio e poi l'ipotesi dei lavori per il 2023 lavori a stralcio mettendo in sicurezza ogni anno un tot di chilometri andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Nazione di Firenze con le notizie del giorno assumono professori guerra in corsia piano straordinario per il personale universitario 23 milioni di euro per tutte le facoltà ospedalieri discriminati tutti i sindacati chiedono un incontro urgente a Gianni per il clima di difficile gestione e il malcontento e poi la cronaca con l'incubo veleno sempre più bocconi abbandonati con sostanze letali per i cani all'isolotto c'è un pazzo transennati l'area verde di San Bartolo a Cintoia ancora sempre sulla prima pagina del quotidiano La Nazione di Firenze domani arriva la Befana tutti gli appuntamenti per grandi e piccini restiamo ovviamente all'interno del quotidiano La Nazione con queste due notizie la prima i problemi delle periferie incubo avvelenamenti i cani restano in casa paura a portarli fuori all'isolotto c'è un pazzo sei polpette fatali nel giro di pochi giorni altre bestiole salvate clima surreale nel rione il comune chiude l'area di San Bartolo siamo terrorizzati potrebbe esserci stricnia ovunque e poi piagge ultima frontiera noi isolati nel degrado con gli aerei sulla testa i rifiuti e nessun bus spiegano alcuni residenti della Nazione ci sono anche i lavori lasciati a metà tra le problematiche alle piagge tutta la rabbia degli abitanti in via delle osterie e delle navi rumori assordanti a ogni ora disastro sociale pochi collegamenti il presidente del quartiere Balli l'amministrazione sta lavorando per migliorare la situazione e poi dicevamo l'università assume piano da 24 milioni a careggi all'ospedale del pediatrico Maier è già guerra di potere il piano straordinario per il personale degli atenei è partito mentre ci sono vincoli per quello ospedaliero di competenza regionale discriminazioni per la carriera pessimo clima tra i medici spiega il quotidiano della nazione andiamo anche velocemente al titolo di Repubblica e Firenze della Repubblica edizione di Firenze cani avvelenati all'isolotto il comune chiude il giardino la notizia è la stessa di apertura della nazione dopo i cartelli di pericolo messi dagli abitanti una decina di segnalazioni ieri la prima conferma dall'autopsia su uno degli animali vittima di una sostanza chimica adesso accertamenti sull'area verde e poi il tram non riparte diminuiscono i passeggeri vedete a picco i viaggiatori meno fiorentini scelgono il tram nel 2022 la linea Careggi Villa Costanza registra un meno 17% rispetto al 2019 quella di unità aeroporto meno 6% l'assessore spiega il servizio è da migliorare saluto il sindaco di Greve Inchianti che è in collegamento con noi Paolo Sottani buongiorno sindaco e ben trovato buongiorno buongiorno a tutti voi buongiorno benvenuto allora c'è un intanto il tema diciamo dei comuni oggi è un tema molto importante per quanto riguarda i costi dell'energia che anche i comuni come i cittadini e le imprese si trovano ad affrontare si sono trovati ad affrontare soprattutto quando i prezzi sono aumentati nel 2022 adesso leggiamo insomma di una situazione molto più tranquilla se vogliamo sul fronte dei prezzi però questa notizia per esempio arriva da Pontedera bollette luce e gas aumenti del 150% questo è diciamo quanto grava l'aumento delle bollette di luce e gas per ovviamente il comune di Pontedera sul bilancio del 2022 ecco il piano messo a punto da Palazzo Stefanelli che deve fare conti con gli effetti del caro energia ci deve fare conti anche il comune di Greve sindaco? sì sì ci dobbiamo fare conti tutti se come ha detto lei ci tornavamo agosto tornavamo indietro agosto veramente sarebbe stata una situazione insostenibile il comune di Greve in Chianti ha avuto rispetto al 2021 e al 2020 un incremento di 600 mila euro quindi cifre abbiamo dovuto fare due variazioni di bilancio diverse per incrementare le somme e utilizzare l'avanzo dell'amministrazione soltanto ed esclusivamente purtroppo per questo a danno quindi di altri servizi che potevamo mettere a disposizione per i cittadini anche perché negli ultimi mesi dell'anno la situazione è migliorata ma questo non toglie che insieme alle imprese insieme alle famiglie anche diciamo il governo è intervenuto con questo diciamo nelle previsioni anche della finanziaria nella previsione della legge di bilancio sulle famiglie e le imprese ma nessuno ha mai parlato dei comuni i comuni sono quelli che erogano servizi alla cittadinanza e alla comunità ci aspettiamo anche noi dei ristori perché così davvero diventa diventa davvero difficile e per questo naturalmente bisogna anche pensare a misure correttive nel nostro comune per esempio abbiamo proprio negli ultimi giorni dell'anno ma era oramai tutto il 2022 e ne stavamo portando avanti il progetto abbiamo inviato partita la gara per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica perché soprattutto per quanto riguarda l'illuminazione pubblica è stato l'incremento più consistente e praticamente per la sostituzione di tutte le lampade la trasformazione in led e quindi insieme anche diciamo l'ammodernamento di tutta una parte dell'impiantistica è un intervento per il comune di greve inchianti sono 2400 punti luce per un intervento previsto di 2 milioni e 200 mila euro e abbiamo abbiamo avviato un progetto di project project financing e vediamo vediamo la gara la gara che i risultati ci dà ci aspettiamo anche delle proposte migliorative anche rispetto a quello che è il progetto di project financing per dire abbiamo efficientato gli edifici comunali con sostituzione di caldaie palazzo comunale per esempio la sostituzione degli infissi questo e in più stiamo avviando anche un percorso per quanto riguarda le comunità energetiche questo in collaborazione con l'ente cassa e risparmio che ci ha dato ci ha dato praticamente un finanziamento per la progettazione e per le manifestazioni di interesse e coinvolgimento delle comunità una collaborazione e quindi anche su questo proprio nei primi mesi dell'anno partire questo è molto importante ricordiamo che tanti territori si stanno muovendo sul fronte delle comunità energetiche che diciamo trasformano i cittadini e gli utenti da semplici diciamo utilizzatori a cofornitori di energia certo sindaco l'assenza in questo momento dei decreti attuativi sulle comunità energetiche non aiuta cioè non si sa quando arriveranno questi decreti perché qualcuno diceva arrivano adesso a dicembre no ho letto sui quotidiani che addirittura potrebbero arrivare nel mese di marzo è una cosa pazzesca cioè l'Italia poi è ferma per i decreti attuativi di provvedimenti che magari sono già stati votati dal Parlamento su tutti ci ricordiamo il payback per esempio adesso oggetto di polemica legge del 2015 decreti attuativi ad agosto 2022 ora questo è un tema di emergenza per l'Italia ma che questi decreti attuativi spuntino fuori cioè saltino fuori no non so lei cosa ne pensa no no assolutamente anzi era da settembre che aspettavamo i decreti attuativi noi ci eravamo anche un po' anticipati su questo siamo diciamo facciamo in modo per essere pronti per questo cerchiamo il coinvolgimento delle comunità soprattutto come sapete le comunità energetiche sono importanti le zone artigianali perché specialmente anche nel nostro territorio e questo sarebbe un altro punto da prendere in considerazione ci sono molte aree dove per esempio non è possibile poter installare pannelli solari quindi bisogna anche perché naturalmente una comunità energetica può coinvolgere principalmente le imprese ma anche buona parte anche delle frazioni e delle comunità quindi compreso anche gli edifici pubblici quindi può coinvolgere veramente tante realità e anche io trovo assurdo che ancora in una situazione così di emergenza energetica non sia stata una delle prime volte da anche il nuovo governo da completare poi lei ha ricordato ovviamente anche la particolarità di un suo territorio quello di Grevenchianti che è un territorio di pregio dal punto di vista paesaggistico e come tanti altri territori in Toscana si trova diciamo nella difficoltà di conciliare da un lato il caro energia diciamo la produzione di energia da fonte rinnovabili con il valore del paesaggio e questo è un equilibrio molto complesso lo sappiamo bene detto questo volevo sentirla su questa iniziativa che parte da Bari che non ha un sindaco qualunque perché il sindaco De Caro è anche presidente di ANCI nazionale quindi l'associazione nazionale dei comuni è un vostro rappresentante autobus quasi gratis la rivoluzione parte da Bari perché il sindaco De Caro praticamente ha stabilito che con una quota diciamo annuale di 20 euro a cittadino si potrà viaggiare gratis sui mezzi pubblici il sindaco Sala di Milano dice per carità è solo demagogia questo grazie ai fondi del PNRR ora secondo lei chi ha ragione De Caro o Sala le domando visto che è anche il suo territorio in cui i mezzi pubblici sono importanti perché voi avete solo e soltanto il trasporto su gomma per raggiungere l'area metropolitana di Firenze oppure il senese come sapete la gran parte dei finanziamenti del PNRR sono andati al sud noi queste linee di finanziamento non ci rientriamo e non è prevista certo è chiaro che il TPL è fondamentale in alcune zone soprattutto anche le zone più marginali come ha detto lei hanno solo gomma e con grosse anche criticità io se chi conosce il mio territorio per andare da Panzano a Firenze non prenderà mai l'autobus perché il biglietto costa più che andare in auto e questo l'abbiamo fatto presente più volte sappiamo quanto costa il trasporto pubblico e quindi su questo da una parte la demagogia del sindaco Sala la vedo in questo senso cioè costa tantissimo però è anche vero che secondo me si torna via a livello governativo credo che per soprattutto ecco ripeto l'importanza del trasporto pubblico ma non solo nel territorio marginale ma poter fare in modo che la persona sia sempre più cosciente di utilizzare il mezzo pubblico deve essere anche facilitato da un punto di vista economico ci racconta brevemente un'iniziativa che state facendo per i giovani la sera per portarli a divertirsi dal comune di Greve verso Firenze avete iniziato adesso lo scorso dicembre sì volevo continuare proprio su questo nel nostro piccolo abbiamo cercato non tutti i giorni di poter mettere a disposizione o con una cifra erisoria o gratuitamente il mezzo pubblico perché veramente per noi costerebbe un costo incredibile però nel nostro piccolo abbiamo questa iniziativa che avevamo iniziato in via sperimentale prima del covid nel 2019 e che abbiamo ripreso quest'anno soprattutto è un'iniziativa che ha una valenza multipla cioè di sicurezza stradale perché come avete visto anche ultimamente gli incidenti stradali anche proprio delle ultime settimane giovani che veramente purtroppo lasciano la vita lungo la strada la notte e quindi è quindi anche una garanzia per i genitori io anche da genitori in passato molti genitori del territorio sono comunque 20 km a Firenze accompagnare i propri figli soprattutto questa è un'iniziativa per i minori accompagnare i propri figli ma non solo perché parte per i ragazzi da 16 a 26 anni dove mettiamo a disposizione un pullman che parte alle 10 la sera e ritorna da Firenze alle 2 e mezzo la notte fermandosi magari in località vicino a Disco Tè oppure per chi vuole andare in centro città per poter andare in un locale o poter trascorrere una serata a Firenze questo è una cosa che sinceramente credo che possa essere importante anche tanti genitori che alle 2 della notte devono partire dal greve per poter andare a prendere i propri figli tranquillizza poi tranquillizza da tutti i punti di vista anche lo stare insieme credo sia positivo ricordiamo che c'è anche un educatore ci sono anche degli educatori che ovviamente sensibilizzano i ragazzi sui comportamenti corretti durante benissimo questa è l'altra parte sia per quanto riguarda l'uso di alcol e stupefacenti c'è anche un educatore ricordiamo l'iniziativa che anche economicamente è importante però crediamo che possa essere ricordiamo che l'iniziativa si chiama portami a ballare in bocca al lupo sindaco grazie mille buona giornata grazie a Paolo Sottani grazie a lei grazie del 110% incagliati adeguamento dei prezzi insufficiente l'allarme dei costruttori il presidente di Ance Toscana Massai critico sul nuovo codice degli appalti se vogliamo sopravvivere va cambiato e poi a centropagina vedete intrappolati senza equilibrio Fiorentina con il Monza al Franchi finisce 1-1 il gol di Cabral non basta e poi la camera ardente del parroco intorno a Dongamucci San Nicolò si ritrova comunità per un giorno c'era tutto il rione di San Nicolò la camera ardente di Dongamucci per l'ultimo saluto all'anziano parroco del rione oggi funerale alle 10.30 nella sua parrocchia e poi la sepoltura a Soffiano ci fermiamo un attimo per dare lo spazio alla regia poi torniamo tra poco ancora con il refresh con le notizie di oggi Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini iniziamo dalla FIPL dove per lavori si segnalano rallentamenti tra Firenze viadotto del Ponte all'Indiano e Scandicci in direzione Livorno per lavori è chiusa l'uscita di Scandicci provenendo da Firenze fino alle 16 di oggi per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana per la viabilità cittadina a Firenze in Viale Amendola fino all'11 febbraio transito e sosta nel controviale tra viaggio 8 e il numero civico 48 interrotti all'altezza del cantiere fine per i treni per un guasto agli impianti di circolazione a Ponte Aelsa i treni sulla linea Empoli-Siena potranno subire ritardi variazioni o cancellazioni muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana città metropolitana e Comune di Firenze e buon viaggio Immaginate che questi siano soldi 15 milioni di euro per l'esattezza puoi metterli in saccoccia puoi chiuderli in banca puoi investirli in bitcoin oppure se sei una cooperativa e ti chiami Unicop Firenze puoi usarli per costruire un muro contro il rincaro dei prezzi per dare una mano a chi fa la spesa senza gravare sui fornitori prezzi bloccati nei supermercati Coop fino all'8 gennaio un aiuto concreto perché la Coop sei tu non è uno slogan ma è il modo in cui facciamo le cose ehi stavo pensando che dovremmo cambiare casa magari con una camera in più sì ma che ci affidiamo per vendere la nostra? dovete vendere casa ve la vendo io però dovreste mettere una fermetta no 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 ma no fidatevi è una cosa regolare no non capisco perché non si fida di me devi vendere casa Francesco Cocchi Maison grazie all'innovativo metodo Revolution ti garantiamo il massimo realizzo economico velocità di vendita ed una transazione sicura vieni a trovarci nelle nostre sedi di Prato e Sesto Fiorentino oh non ti spaventa perché ci fai le sole? io sono qui perché voglio sapere ma te come fai? a me non mi riesci a vendere neanche un garage di ciò si fidano e sarà la faccia la mia? no eccoci gentili telespettatori di nuovo con Refresh su Toscana TV e Firenze TV proseguiamo con la rassegna stampa di oggi le notizie che arrivano da Firenze dalla Toscana siamo sul Corriere Fiorentino a pagina 2 abbiamo già letto il titolo sull'edilizia che in questo momento attraversa un settore momento di difficoltà è un settore che deve fare conti con anche gli effetti negativi del superbonus soprattutto dei crediti l'edilizia toscana verso un brusco stop tanti cantieri fermi altri mai partiti i costruttori molte aziende senza soldi colpa dei crediti del 110% e l'adeguamento dei prezzi non basta questo spiega il quotidiano il Corriere Fiorentino vedete l'edilizia in Toscana le imprese attive 52.713 i bandi di gara con importi in milioni di euro per 2.677 milioni di euro la cassa integrazione che ha raggiunto ovviamente 855.960 ore e poi l'erogazione di finanziamenti dei 204,8 in calo rispetto al primo terzo trimestre del 2022 e spiega il presidente di Ance Toscana Massai sia il nuovo codice degli alpati è da rifare basta cambiare le regole ogni anno Massai scrive ai parlamentari toscani vogliamo partecipare alle decisioni siamo in allarme per la Toscana strade la sensazione è che la regione voglia fare le opere sostituendo le nostre imprese quindi a difesa anche del fronte locale delle imprese Massai andiamo anche sulla prima pagina sempre all'interno del Corriere Fiorentino a pagina 3 la storia fronte affitti quattro mesi di ricerca e due stipendi sicuri ma non troviamo casa una coppia di amici entrambi i lavoratori cercano a casa da condividere che abbia due camere da letto e un affitto che non superi 1100 euro al mese spese incluse magari un quartiere servito dalla tramvia per comodità le ricerche vanno avanti da mesi ma si infrangono su due scogli i prezzi saliti alle stelle e soprattutto i tempi dei contratti offerti sempre transitori quindi inadatti a chi vorrebbe prendere la residenza in quella casa le agenzie non hanno niente da offrirci ne abbiamo contattate infinite i prezzi ormai sono a livelli di Milano ma qui gli stipendi sono più bassi e peggiori le condizioni delle case abbiamo bisogno di prendere la residenza non possiamo accettare soluzioni transitori invece è l'unica offerta c'è chi lo fa perché ha paura dei morosi ma molti speculano spiegano queste due persone alla ricerca della loro abitazione a Firenze all'interno del Corriere Fiorentino anche i titoli che riguardano ovviamente la partita di ieri della formazione Viola una falsa ripartenza spiega il Corriere Fiorentino nell'inserto sport buon primo tempo gran gol di Cabral e poi il calo il Monza strappa un pari Terracciano evita il peggio scrive Ernesto Poesio vecchi difetti e poco equilibrio andiamo avanti sempre con le notizie che leggiamo sul quotidiano il Corriere Fiorentino fuori nazionali e i big italiano sorprende tutti bianco tra luci e ombre l'esordio del giovane mediano e il rientro di Castrovilli questo spiega il quotidiano il Corriere Fiorentino andiamo anche all'edizione del Tirreno di Firenze il titolo di apertura dimissioni volontarie boom tra gli over 50 buon ritmo di sviluppo per le imprese ma inferiore al 2021 l'IRES la critica energetica penalizza tutti specie i più deboli e dunque il dato principale appunto è questo che riguarda il boom tra gli over 50 delle dimissioni volontarie intanto il congresso della CGL lavoro persone e ambiente ecco su cosa insistere spiega il sindacato e su questo ci vediamo il servizio di Toscana TG che è il numero 4 regia grazie il lavoro crea il futuro è il titolo di una due giorni organizzata dal congresso metropolitano della CGL di Firenze a Scandicci da qui parte l'appello della segretaria generale di CGL Firenze Paola Galgani va cambiato il modello di sviluppo per combattere le disuguaglianze e le parole chiave sono tre lavoro, ambiente e cura delle persone la cura del lavoro che passa prima di tutto attraverso la sua stabilità e il suo riconoscimento anche dal punto di vista retributivo dall'altro la cura dell'ambiente perché mi pare che siamo immersi in un'emergenza che ha bisogno di scelte immediate e strategiche e poi la cura delle persone perché se c'è una cosa insomma che dovrebbe averci insegnato la pandemia e i mesi successivi è che abbiamo necessità di curare le persone non solo nella malattia ma di prevenire appunto e curare la salute e quindi prima di tutto rispondere ai bisogni essenziali delle persone che cosa si sta avvivendo a livello proprio di aziende e divertenze tutte le crisi industriali ci sono succedute l'ultima è la GKN ma per quanto riguarda ad esempio la nostra categoria ricordo la Beccherta ancora prima la Shellbox l'Eletrolux di Scandicci cioè sono tutte crisi che non hanno avuto e non stanno avendo soluzione perché c'è anche una responsabilità oggettiva della politica non si può pensare che la politica anche quella locale che è una politica che quando c'è le crisi viene immediatamente detto che c'è una crisi industriale si annuncia licenziamenti si fa vedere su quei cancelli e poi si dimentica di quei lavoratori perché noi a quei lavoratori dobbiamo continuare a dargli le risposte io credo che ci sia una carenza che in questi anni è aumentata e il distacco della politica da parte delle istituzioni da parte delle persone che per vivere devono lavorare lo dimostrano Andiamo avanti sempre con i titoli del Tirreno di Firenze Firenze Smart il digitale cambia la vita in città il 2023 si apre all'insegna di nuove sfide l'assessora ecco i servizi più efficienti spiega l'assessore del re 2 milioni di accessi alla rete civica 1 milione di pagamenti con Pago.pia le app tagliacode sono 168 il wifi pubblico a quota 9 milioni di accesso le app il contatore di persone per muoversi in luoghi meno affollati il cerca posto per i parcheggi il risparmio acqua per l'innaffiamento dei parchi questo spiega il quotidiano Il Tirreno di Firenze ci si occupa anche nella parte toscana invece del payback la pioggia di ricorsi sui maxi rimborsi sanitari sette aziende chiedono di sospendere le richieste di pagamento inoltrate dalla regione toscana questa vicenda la ricordiamo riguardo ovviamente le aziende che producono dispositivi medici che devono partecipare secondo la legge dello Stato allo sforamento del tetto di spesa della regione toscana vedete infatti come funziona il meccanismo spiegano da Confindustria dispositivi medici e FIFO Confcommercio una legge incostituzionale che mette a rischio migliaia di aziende andiamo anche sul Tirreno di Prato con la notizia che riguarda il fatto che diminuiscono i fallimenti ecco chi non ce l'ha fatta concessionare auto lanifici ristoranti le sentenze sono 49 i confezionisti cinesi non fanno eccezione ma il calo non è necessariamente sintomo di ripresa andiamo anche su notiziediprato.it sito molto seguito e apprezzato morte Luana il giudice ambiente di lavoro pericoloso per le ripetute manomissioni sull'orditoio pubblicate le motivazioni della sentenza di patteggiamento per marito e moglie titolari dell'orditura dove è morta la giovane operaia nelle carte ricostruita anche la dinamica della tragedia sulla morte di Luana Dorazio e proprio su questo ci vediamo il servizio di Toscana TG che è il numero 2 regia grazie quando ha agganciato i vestiti che Luana Dorazio indossava trascinandola via anzi fagocitandola come si legge nelle 17 pagine di motivazione della sentenza pronunciata dal giudice delle odienze preliminari del tribunale di Prato nei confronti dei datori di lavoro l'orditoio ruotava a una velocità di 25 metri al minuto e la lavoratrice avrebbe fatto in esso almeno 4 giri morendo per asfissia da schiacciamento della gabbia toracica così dicono le carte che spiegano i fatti e i tecnicismi che hanno portato alla condanna di Luana Coppini amministratore unico e del marito Daniele Faggi cogestore di fatto entrambi hanno parteggiato le imputazioni di omicidio colposo in rimozione delle cautele antinfortunistiche mosse dopo la morte della mamma 22enne Luana Dorazio avvenuta il 3 maggio 2021 nella fabbrica in via Garigliano a Oste due anni di reclusione per lei un anno e sei mesi per lui nelle fitte pagine si spiegano le ripetute manomissioni che hanno creato all'interno del reparto campioni quello in cui Luana Dorazio era stata assunta come apprendista e dove veniva lasciata sola un ambiente di lavoro pericoloso per l'incolumità dei lavoratori nel dettaglio si fa riferimento alle alterazioni relative alle protezioni disattivate e ad accorgimenti per fare in modo che l'orditoio funzionasse ugualmente nelle 17 pagine si spiegano anche i motivi che hanno portato a determinare l'ammontare dei patteggiamenti a entrambi gli imputati sono state riconosciute le circostanze attenuanti il giudice ha condiviso il ragionamento della difesa l'importo e la celere tempistica della messa a disposizione delle somme di denaro poco più di 1 milione 100 mila euro offerte al figlio ai genitori e al fratello della vittima dall'assicurazione dell'orditura la condotta processuale e il tempestivo adempimento alle prescrizioni imposte dalla ASL per mettere in sicurezza i macchinari posti sotto sequestro eccoci qua gentili telespettatori è il momento perché oggi torna in edicola il settimanale delle 15 diocesi della Toscana di concentrarci sulle notizie di Toscana Oggi lo facciamo con il vice capo servizio Simone Pitossi Simone buongiorno benvenuto a Refresh ciao buongiorno Andrea buongiorno a te e ai tuoi spettatori allora partiamo subito ovviamente dalla prima pagina di oggi del settimanale Toscana Oggi che è dedicata a Benedetto XVI nel giorno tra l'altro dell'ultimo saluto commosso e composto di tutta la comunità cristiana a Benedetto XVI sono attesi centomila fedeli in San Pietro e voi titolate padre ed educatore della fede in un articolo dell'arcivescovo Andrea Bellandi poi ovviamente all'interno di Toscana Oggi trovate molte testimonianze su Benedetto XVI il suo viaggio in Toscana ad Arezzo e Sansepolcro la sua frequentazione delle monache benedettine di Rosano e tanti altri tanti altre analisi sulla diciamo su Benedetto XVI nel suo papato e quando ovviamente è stato così ha ricoperto l'inedito ruolo di Papa Emerito Simone sì certo non poteva non essere così non potevano non aprire questo giorno che vi appunto poco fa su Benedetto XVI e abbiamo centrato l'attenzione nel titolo di apertura proprio sul padre ed educatore della fede che sicuramente è uno dei tratti distintivi di Benedetto XVI ma Andrea Bellandi che è adesso oggi arcivescovo di Salerno è stato un sacerdote fiorentino e ci racconta non solo questo tratto ma ci dice anche che Benedetto XVI è stato un Papa rivoluzionario nessuno si sarebbe aspettato questo da colui che era il prefetto della congregazione per la dottrina della fede o come veniva definito ancora forse anche in modo dispregiativo l'ex Sant'Ufficio e come fu anche accolto quando fu eletto Papa ricordiamo i titoli il Panzer di Dio il pastore tedesco poi però nel Papato è stato un Papa che in effetti ci ha sorpreso ci ha sorpreso innanzitutto per la decisione inconsueta di dimettersi quando non pensava di essere più in grado di assolvere al compito del Papato ma anche durante il Papato ha avviato alcune delle grandi riforme come della Curia Romana che sta portando avanti oggi proprio Papa Francesco poi ha affrontato la tempesta delle inchieste sulla pedofilia Vat Vix insomma tante cose che lui ha portato avanti in modo anche appunto rivoluzionario il vescovo Andrea Bellandi l'arcivescovo Andrea Bellandi ci racconta anche un tratto confidenziale ovvero di quando lui giovane sacerdote che stava preparando il suo dottorato di ricerca la sua tesi lo accolse perché proprio Andrea Bellandi dedicò questo dottorato di ricerca agli studi teologici di Ratzinger e lo accolse stette con lui due ore fu molto disponibile e questa idea del grande teologo distante insomma ecco piano piano svanì e divenne un colloquio molto confidenziale amichevole e poi dopo lui ci racconta ci dice anche che purtroppo poi dopo non è più riuscito a incontrarlo per i tanti impegni ovviamente di Benedetto XVI come Papa poi all'interno se vuoi andiamo avanti poi dimmi pure tu insomma ecco c'è proprio a pagina 3 in questo momento vediamo un racconto di Luca Collodi che è un collega di Radio Vaticano l'abbiamo intervistato e lui ci racconta di quando Benedetto XVI andò a Radio Vaticana per inaugurare una targa in ricordo di Giovanni Paolo II in ricordo di quando il Papa faceva delle trasmissioni tra l'altro in lingua polacca per i suoi appunto connazionali polacchi lui andò lì e loro gli misero un microfono davanti e in maniera molto anche lì diretta e confidenziale si prestò a una delle poche interviste che Papa Ratzinger ha rilasciato durante il suo papato e ricorda alcune delle parole che Benedetto XVI gli disse del grande valore dei mezzi di comunicazione di massa radio in quel caso ma anche i giornali le tv che possono andare oltre le frontiere e unire e quindi essere mezzi di pace parole che purtroppo oggi tornano di stretta attualità in cui stiamo vivendo eventi di guerra eppure sono oggi proprio necessarie ecco queste azioni di pace e appunto Luca Collodi ci dice che forse oggi spesso i mezzi di comunicazione di massa amplificano le divisioni invece di unire e cercare ciò che ci unisce e poi come dicevi all'interno ecco e poi c'è il tema della visita ad Arezzo e Sansepolcro che è stata la prima e l'ultima da Papa in Toscana era il 13 maggio del 2012 e poi c'è un racconto di Mauro Basi che è presidente del progetto Agata Smeralda mi è piaciuto molto che racconta appunto la messa con le suore Benedettine di Rosano dove Ratzinger aveva una sua frequentazione già questo prima ovviamente di essere nominato di essere eletto Papa sì sì assolutamente se vuoi ricominciamo un attimo dalla visita appunto ad Arezzo e anche lì fece un richiamo importante quando appunto lui nella sua melia nel suo discorso si chiese nella regione che è la patria del rinascimento la Toscana quale visione dell'uomo oggi siamo in grado di proporre alle nuove generazioni lui l'invito proprio a proseguire nel solco che è quello caratteristico della nostra regione dei suoi valori distintivi ovvero proprio la solidarietà l'attenzione ai più deboli il rispetto della dignità di ciascuno ecco perché appunto questa importanza dell'essere vicino ai poveri e a coloro che hanno bisogno e appunto andando avanti Mauro Barzi ci racconta questa frequentazione che Ratzinger fin da quando era sacerdote cardinale insomma ecco ha avuto proprio con le Benedettine di Rosano lui ogni anno almeno una volta si recava proprio al monastero nei pressi di Firenze che si trova però nel territorio della diocesi di Fiesoli e lì veniva fuori anche un tratto come emergeva appunto dal racconto dell'Arcivesco Bellandi un tratto molto ecco umile se vuoi anche molto confidenziale e lui appunto si racconta queste messe ma anche gli incontri e un giorno era nella sua camera nel suo studio lì a Rosano e il suo segretario lo accompagnò dentro la stanza mentre il Papa stava suonando il piano forte e questa è un'altra delle grandi passioni di Benedetto XVI è proprio la musica oppure ecco quando il Papa insomma il Papa Razziger si recò a Rosano per celebrare i suoi 50 anni di sacerdozio 50 anni di sacerdozio che tra l'altro lui celebrava insieme al fratello anche lui sacerdote entrambi andarono a Rosano e le sore gli organizzarono una festa e lui fu molto veramente felice oppure ecco quando lì andava Rosano poi andava a passeggiare nei campi nelle colline intorno al monastero oppure si metteva sotto un pergolato a studiare a leggere insomma ecco quindi molti molti veramente tratti di un Papa Benedetto di un insomma Cardinal Ratzinger che sono magari ecco meno o meno conosciuti rispetto all'idea del grande teologo distante che noi abbiamo insomma ecco grazie a Simone Pitossi appuntamento in edicola con Toscana Oggi e sul vostro sito web toscanaoggi.it grazie mille e buona giornata e buon lavoro grazie grazie a te allora velocemente per chiudere anche con ovviamente la notizia abbiamo già letta del quotidiano sul quotidiano il Corriere della Sera del funerale di oggi di Papa Benedetto XVI però vedete l'abbraccio della comunità Don Gamucci e per un giorno San Nicolò ritorna a Rione i tanti abitanti del Rione che hanno voluto portare l'ultimo saluto a Don Gamucci in tanti davanti alla sua barra ci ha sposati lui ci conosceva uno per uno spiega il quotidiano il Corriere Fiorentino chiudiamo prima ovviamente di chiudere con i titoli manca ancora la parte di Empoli del Corriere del Tirreno Ponte sull'Orme in ritardo i costi lievitano di 70 mila euro l'opera di ricostruzione doveva essere conclusa entro il 2022 andiamo anche alla prima pagina del quotidiano La Nazione di Empoli pronto soccorso numeri da capogiro nel 2022 superati 60 mila accesso 7 ogni ora il San Giuseppe al secondo posto nell'Asl centro e poi rifiorisce il turismo i musei si lasciano alle spalle la pandemia tutti i dati andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano La Nazione di Prato il titolo di apertura Il mio inferno al pronto soccorso più di un giorno in barella tra obiacchi e freddo guerrini nel PD gravi problemi dobbiamo parlarne e poi la beffa in bolletta i consumi fatturati a ottobre e novembre sono spesso presunti così si paga di più anche con l'invernomite i conguagli a fine anno chiudiamo anche con i titoli dello sport del quotidiano La Nazione che spiega Cabral in rete Viola salve Fiorentina a due volti primo tempo da padroni poi il calo la missione in compiuta Cabral gol e poi il calo Viola il solito remake grazie a tutti voi che avete seguito Refresh anche per la giornata di oggi giovedì 5 gennaio 2023 noi ci troviamo lunedì a partire dalle 6.50 a tutti voi l'agurio di un buon fine settimana e di una buona epifania Andrea Vignolini è tutto buona giornata allè grazie a tutti grazie a tutti